Allora Alessio, innanzitutto quali sono i cavalli che hai portato a queste previsione per il prototipo? Ma io ne ho portato solo uno, si chiama Ozzastro, un cavallo nuovo. Che è scuderia da te, l'hai preso? Sì, sì, l'avevo preso l'anno scorso a ottobre. E senti, innanzitutto domenica sarà fecchio? Sì, ne ho due. Cosa? Sono però fuori dal contributo, ho due cavalli, c'è un annedo e un mardecoralli. Possono dire la loro, fare bene? Possono far bene, ora dipenderà anche un po' dalle batterie, dalle avversarie, però sono due cavalli che possono far bene entrambi. Come sta Alessio Miguel? Io stavo benissimo. Da libero professionista, da quest'anno, come cambiava un po' la vita? Alla fine la vita è sempre la stessa, nel senso che l'impegno, il lavoro, il serificio è sempre lo stesso. C'è da curare anche altri aspetti, ma questo mi responsabilizza e mi dà ancora più carica per affrontare l'annata. Rapporti con le contrade? Rapporti sono buoni, con la maggior parte delle contrade, sì che sono contento. 2012 è un anno importante per te? È un anno fondamentale. Senti, e cosa pensi del fatto che si torna a correre a Modicione? Io sono molto contento, primo perché è una pista che mi è sempre piaciuta, ci ho sempre montato, anche due o tre batterie aggiornate, quindi è una pista sia per vedere i riscontri o avere delle idee sui cavalli, è anche una pista che ti allena molto e a me mi fa piacere montarci.